Uomini e donne, Carola rompe il silenzio suo passato, non sapevo gestire le emozioni. Manca sempre meno alla fatidica scelta finale di Federico a Uomini e Donne, diviso tra Carola e Alice. Le due pretendenti attendono con trepidazione di scoprire chi sarà la persona con la quale il tronista intende intraprendere una relazione stabile fuori dallo studio tv di Maria De Filippi. Intanto si sono raccontate al magazine della trasmissione. In particolar modo Carola Carpanelli ha preferito aprirsi raccontando degli aspetti inediti legati al suo passato e a quella che è stata la sua esperienza come animatrice. Carola e Alice sono le due pretendenti che si stanno giocando il tutto per tutto in vista della fatidica scelta finale di Federico a Uomini e Donne. Tra le due Alice è quella che, in questi mesi di permanenza in trasmissione, si è aperta maggiormente raccontando anche degli aspetti privati e intimi della sua vita. Carola, invece, ha sempre preferito non sbilanciarsi oltre, ma nel corso dell'ultima intervista rilasciata al magazine della trasmissione Mediaset anche lei ha voluto parlare del suo passato. Rivelando degli aspetti inediti legati alla sua avventura come animatrice. Non sapevo gestire le emozioni, temevo di sbagliare, ha raccontato la giovane corteggiatrice. Aggiungendo che avendo a che fare con dei bambini piccoli, temeva sempre di poter dire qualche parola di troppo. Ci sono stati anche dei momenti brutti, mi sono presa delle sgridate, ha raccontato ancora la protagonista di Uomini e Donne. Svelando che ci sono state delle situazioni in cui proprio non riusciva ad avere un atteggiamento severo nei confronti dei bambini che le venivano affidati. Tuttavia, grazie a questa esperienza lavorativa, Carola ha ammesso di essere maturata e cresciuta. E adesso si prepara ad affrontare uno dei momenti più attesi di questa stagione di Uomini e Donne. Nel corso delle prossime registrazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ci sarà spazio per la scelta finale del tronista e a oggi Carola sembra essere la super favorita dal pubblico. Gli spettatori e fan social, che hanno avuto modo di seguire il percorso di Federico Nicotera in tv, si dicono convinti del fatto che sarà lei ad avere la meglio nel rush finale contro Alice. Il motivo? Federico avrebbe dimostrato di tenerci particolarmente a Carola, tanto da andare a cercarla fuori dallo studio quando ha corso il rischio di perderla definitivamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.